Buongiorno a tutti ragazzi, ben tornato in un nuovo posto di video Oggi siamo qui insieme a Giuseppe Ciao Ragazzi abbiamo creato, ce l'ho messo più di 40 minuti Ma abbiamo creato una Bouncer Ragazzi questa era solo la BHE Ora ve la facciamo vedere Quella è la per fare in 1v1 Ora ve la facciamo vedere Questa è la BHE Abbiamo ricoperto tutto Abbiamo ricoperto tutto E ora è diventato questo Ora inizieremo Fermate, fermate Un attimo qua ho il trucco Editi È una figata pazzesca Ti dico io appena fate Appena inizio 3, 2, inizia da un lato 3, 2, 1 Via vai si inizia Abbiamo messo anche delle colonne Ci sfideremo con solo i cecchini Abbiamo 3 caccia Un trampino E un cecchino silenziato Lui è cieco Non vede Problema Problema di respawn Fermati Fermati Non fa nulla Non fa nulla Non fa nulla Fermati Vai ho fatto il buco Te l'ho fatto proprio sul respawn Senza farlo apposta Vai Questo buco Facciamo così Lo teniamo editato Per una parte Ok Ah no Quello Un attimo Siamo 1-0 L'ho sbagliato Poi dopo andiamo nella mappa reale di questa E vediamo se è uguale Mi fa manco uguale la mappa reale Non so neanche se esiste le mappa reale Sto laggando Sto laggando Sì vabbè Volevamo riempire anche il soffitto Ma le banfe non lo permettono Ok non ce le fa metter Aiuto Mi si secano io Oh no Non ho un petri Devo dire Datti che non mi hai fatto una gunetta Eh frate Tu capisci quando uno lagga Eh laggi Dalla voce non laggi Ho 76 di ping Eh vabbè Quello non è laggare Quello è vele ping alto Ma tu sei forte con i cecchini Ma sanno tutti Eh ma avevi detto Ma anche mio non Ma avevi detto Oh 250 Avevi detto sono forte con i cecchini Comunque raga due secondi Tutti subito Aspettatevi due secondi Faccio io la treneclonaca Allora Tupacchi è andato a fare un attimo una cosa Ma non so dove Eh io sono il suo amico Guardatelo quanto è bello È bellissimo Con la wonder Con la glow Vai vai spogliamo Eh Spogliamo Ma l'avevi messo Solo l'avevi tagliato Che? No Scusate il video Quando ci è andato No Scusate Eh perché lo scoprirai prima Che hai detto? Ho detto quanto sei bello Con la glow No Pensavo che avevi disegnato Quanto sei bello Sì Mi hai detto Scatti Oh donna Cos No infatti Non ho capito Non ti ho fatto Tipo al vuoto Ti ho colpito Oh là Oh Ma Ma Ci abbiamo messo 40 minuti Raga faremo molti episodi Di questa cosa Perché là Non era meglio Se la facevamo in una nostra mappa Ora Ora Se no la prossima volta Se tipo Poi spegniamola Dobbiamo rifare tutta Ma capo E li facciamo tutti oggi? Sì 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 Ma che poi magari Non ne chiedono altri Perché magari I video vanno Stanno bene Viacce No ma perché non ti colpisco qualche una volta che c'è io ti sto prendendo però non mi fa colpire ora raga raga io faccio un ticciotto assurdo eh volete vederlo volete vederlo raga un attimo mi chiamano raga lo facciamo in tre sta roba e e e e e e Grazie a tutti Ma ci sono ma che trick ti ho fatto Però non è proprio un trick Ok si era un trick ma io voglio fare un'altra cosa Vai subito di lampino Tu prova a spararmi Tu prova a spararmi Vuoi fare una cosa assurda perché se ti prendo questa Nella stessa delle ciclinate più belle di sempre Ma sai perché non ti prendo? Perché il suo è la skin uguale alle bouncer La close Non vedete niente Che guarda è la skin uguale alle bouncer 3 2 Hai la skin 2M 2 1 Mi ha detto no Avevo fatto una che impazzesca No No Mettila tipo nel video No perché non c'è chi là Vabbè nel video certi che c'è Ma ti fari prova Vabbè tu non hai sbagliato Spadami Io stavo riprovando ma tu spadami Non penso che mi prendo Non si vede niente Però perché poi la skin uguale Devo sbattere qua Poi sbattere su una cosa che è uguale Poi sbattere qua Poi sbattere là Qua Sbatto qua Sbatto là Sbatto qui Sbatto qua Doi fare? Che poi me ne vado di qua Che mi spingo di qua Che vado di là Non mi ne vado di là E che Il trickshot così Enteda Ah Ah Sbattere pego Che cosa devo fare? Ho fatto il trick Se faccio il trick faccio un video con quello che sto facendo Prendo una pasta e prendo il video e lo carico Per fare Vabbè dai basta Facciamo un mince bar Non riuscirò mai Guarda qua Oh 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 Non è detto Perché Ora Secondo me Da poco Il trick Potrebbe entrare Dove vai Dove vai Dove vai No Oddio 215 215 215 E quindi Siamo Questo Questo Lo pubblico Vai Vai Ora 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 ci siamo Vai Fai Diamo Emma Che scappi Non ci vedo Non ti vedo Sei Ma scusa ma non vedi qualcosa muove Ma se Ma se 221 Ine Fra Sto fortuna Un'idea Facciamo tanti video No così Di questa cosa Facciamo tanti video col cecchino e dopo io posso prendere non vale e dopo io prendo tutti i video e faccio le mie video di cecchinate il video di cecchinate tagliando tagliandolo dal telefono con una canzone non so se riesco a metterci una canzone non so come il montage con i cecchini non so che ci riesco comunque le mie lecchina di cilassero giuro siamo tutti i miei amici di faccia mettere un posto di lancio non scappare mi scappano la mia prima volta che ti prendi se non c'è nessuno c'è nessuno c'è nessuno 215 ma anche a te sembra un po' buggata sta mappa hai fatto ma perchè tu mi hai sparato non mi hai sparato su cioè hai sparato sopra di me ma pure io non ti ho visto nell'inquadratura quando ti ho ucciso cioè tipo io sparò a destra e quello c'è tu stavi dietro di me stavi dietro di me io stavo avanti ho sparato vabbè a casa aia te lo vendevo ma ma tu sei un hacker ma lo so ma ti faccio bannare da mio zio dall'aeric evic gammes mio zio lavora alla evic gammes ciao ciao è solo una seconda volta che muoio oh brah ma se tu eri dietro di me io ho sparato c'ho preso boh ma perchè ma stava per paga rizzo comunque l'idea migliore è stata di l'arte vado no no non ti vedi no no questo pezzo sei lungo non ci vedi dalla mia rituale ti vendevo il coma Ah, poi la visuale è di niente non c'è un po' di farlo line bot le acce scusi le acce del settino tutte queste vado nella mia clip io me ne vado un attimo perfetto ci sono è andato un attimo a bomba ti dai ma tu sei ninja allora tu sei ninja e mi stai trollando col nome dal punto ok se hai chiamato vero lo sapevo lo sapevo perché non parlo inglese però non parlare inglese no è un ninja hyper hai ma ninja hyper hai ma fucking ninja infatti non mi vedi perché sono un ninja mi nascondo è ninja aspetta me lo metto su instagram allora c'è tutti i ragazzi sto ninja è troppo forte guardate guarda mi sta uccidendo un botto di volte c'è ninja è un vero parla pure inglese è troppo forte devo non riesco più ai tasti perché stiamo viaggiando cioè dobbiamo andare nello stesso momento giù e invece tu vai ok guarda io faccio lo screen che ninja aspetta fatta me la metto su whatsapp se io posso la metto sulla nasa ninja e ninja non puoi fare pubblicità ma la domanda vede che non fare aria guardavo che faccio se lo fai non giuro io faccio scrivere subito faccia tipo scrivo faccio lo scrivo e scrivo raga c'è il ninja se non andare tutti i bouncer però se tu ti vuoi da tutti i bouncer io che lo faccio no io ci trovo oh sei ninja ottfu ti più non tu fu non so fu guarda sono ninja a faccio ninja 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 sono io ninja vai da qua come ti prendo vai 3 2 1 via e fermati un po sono arrivato qua sopra e metti le due bouncer la sei arrivato tu e se mi faccio io f***ing a ninja ninja guarda 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 i am banana do you like banana no io i am banana già c'è la pera ninja aiula aiula apple apple no che schifo la mela la banana banana dai basta con i dati femmina oh dark io trovo devo andare a mangiare ma non dobbiamo registrare mille video ok fanno durare un po' tanto perché te devo andare a mangiare qualcosa che devo fare anche un video di solo le cecchinate più belle quindi non scappare se tu scappi affrontami devo fare le belle cecchinate io perché mi posso scappare c'è tu no si entrava si entrava la prossima enza te lo dico io la prossima enza che cazzo era ghost it ma non dovevi fare una certinata che doveva entrare fermati cioè no non fermati ok ci siamo dovevo prendere il tuo tempo e lo prendo wow non so se ho riuscito a prendere lo tempo wow non so se ho riuscito a prendere lo tempo allora le prossime le faccio con sede vai vabbè intanto che vai quante ne fate secondo me di cecchinate boh non è che le ho tagliate mo le ho messe mo ti faccio fare un po' di cecchinate un attimo non mi sfadate ci siamo vai se ne inizia la sfida aspetta ma stai facendo ancora il video no no mica come no certo ma lui non conosce che è il sarcasmo se non lo stai facendo posso hai capito ma perchè non sa non sa il sarcasmo no infatti non sto ad gestare allora 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 ma non capisci il sarcasmo ma ma questo non sei più come prima che mi pareva un po' di cecchinate è bello allora ma fai dire c'è online ora non lo so è online poi ho spento e invitami che c'è perché c'è io devo andare a mangiare e ora ho spento ciao ragazzi ciao ragazzi compariamo nelle cecchinate di su parte 8 stanno andando in un altro video eh esatto magari noi stanno vedendo una settimana dopo ti voglio bene quindi tu vai io no tu vai quindi ma come in che senso no in andare dico no poi ho detto ti voglio bene e ti ho detto io no vai via ciao vabbè termino il video potete vedere la faccia il più figa di sempre mi faccio la faccia il più figa di sempre e poi mi potete lamentare non so che è fermo ma è la crisi più bella testiccia alla fine non viene in palma non sono veramente nero no no ok l'ho aiutato devo sbagliarmi perchè è morto se è morto se è morto fa uscire il giorno qua via stavolta l'avevo detto vabbè dai raga il video è si che l'ho concluso di qua Spero che la mega sfida Vi sia piaciuta Usciranno altri video con questa mega sfiga Sfiga Sfida Basta per tutto uscirà una clip Dove farò vedere tutte le mie cicchinate più fighe Di sempre Vorrei fare una bella copertina Non so se ci piace Idea Vabbè dai la faccio normalmente così E venga Bella Wuuu Wuuu